la differenza principale tra il senso della costituzione spartana e il senso appunto della costituzione atenese concerne in fin dei conti il senso appunto della politica intesa come la politica atenese si basava su una politica di democrazia diretta mentre la politica spartana si basava su un senso di stampo oligarchico ma il punto è probabilmente quello del dibattito è quello il punto fondamentale a cui bisogna arrivare infatti il senso spartano attenzione si basava più che altro su un sistema ma sembra di cooptazione ovvero si era un sistema aristocratico tale per cui questo sistema è sempre rimasto aristocratico ovvero sia sparta si basava sugli spartiati e questi spartiati prendevano ordini nel momento in cui questi prendevano ordini pertanto essi stessi non potevano che rispondere sì all'ordine capiamo bene che all'interno di una costituzione di stampo spartano dove per esempio c'era appunto la pella che era il consiglio di tutti i cittadini ovvero sia di tutti gli spartiati che combattevano dalla mattina alla sera la gerusia che era questo consiglio degli anziani con appunto spartiati ormai anziani che erano appunto arrivati a un certo tipo di età si pensa appunto ai 60 anni e che prendevano le decisioni e costituivano le leggi che poi passavano la pella e la pella poteva solo decidere per un sì o per un no non poteva nemmeno dibattere su queste leggi e con i re anche che infine i conti provenivano da ceti di stampo reale e d'altro canto all'interno di questo tipo di comparto tutti questi membri membri della gerusia e membri comunque dei re i due re e gli stessi spartiati dovevano anche mantenere ed avere determinate terre oltre ad essere nati da due genitori spartiati capite bene che qui c'è fondamentalmente una relazione importante tra il senso del soldato e il senso del cittadino che in certo qual modo era inequivocabile come sinonimo della cosa ovvero sia certo che nell'antica grecia i cittadini quando scattavano le guerre andavano anche a combattere ma l'esemplificazione di sparta è un po' particolare ovvero sia a differenza di atene dove in fin dei conti il cittadino non era obbligato ad addestrarsi dalla mattina alla sera e non era obbligato a sottostare a degli ordini non dibattuti a sparta il presupposto era che il cittadino era anche il soldato e il soldato era anche il cittadino la cosa interessante quindi è che a un certo punto bisogna fare una riflessione filosofica di base chiedersi quanto impattava il determinismo inteso proprio come determinismo circostanziale entro appunto il perimetro di sparta probabilmente perché quando la gherusia proponeva all'appella determinate leggi determinati decreti su cui l'appella non poteva dibattere per riproporre nuovi decreti o nuove leggi ma poteva al massimo fare una riflessione per decidere se questi decreti andavano bene o no quindi rispondere con un sì o un no per farli passare capite bene che la questione di sparta era fondamentalmente quella di questi cittadini soldati che erano abituati in fin dei conti ad accettare gli ordini quindi è interessante fare una riflessione probabilmente sul senso dell'ordine il rapporto al soldato capiamo bene qui un soldato appunto normale spartiata che si vedeva quando era soldato degli ordini da parte della gherusia non poteva che rispondere di sì a questi ordini o no perché poteva appunto incorrere naturalmente in un certo qual tipo di critica e di condanna si potrebbe pensare in questo senso magari all'esilio o anche alla condanna a morte per il semplice motivo che bisognava essere sempre in linea al costume di sparta e nessuno poteva venire meno c'erano anche gli efori in questo senso che controllavano appunto le altre cariche per fare in modo che ogni legge, ogni decreto, ogni comportamento fosse in linea col costume di sparta pertanto è appunto inevitabile da un certo qual punto di vista arrivare appunto al presupposto che in sparta non ci fosse un vero senso di dibattito reale che andasse oltre il senso del determinismo del costume di sparta inteso come appunto costume che in certo qual modo era costume militare e guerriero tale per cui appunto i membri della pella quanto erano influenzati nel cercare di opporsi poi al senso della gherusia e questa è anche una grande domanda che poi naturalmente sulla base anche delle fonti che sono quasi tutte esterne a sparta è difficile da rispondere d'altro canto è interessante appunto notare il senso che il senso del dibattito da un certo punto di vista era appunto relegato al senso che la pella non poteva che rispondere o sì o no primo punto al senso della gherusia secondo punto naturalmente i membri della pella erano anche soldati abituati a rispondere agli ordini della gherusia e quindi è difficile cercare di capire quanto essi potessero essere inclini a già di per sé appunto opporsi alle decisioni della gherusia anche se naturalmente questo resta comunque un dibattito aperto il presupposto naturalmente in Atene cambia un attimo cioè il presupposto in Atene è probabilmente quello della democrazia diretta attenzione quando si pensa alla democrazia diretta atenese probabilmente in realtà non è una democrazia come quella di oggi era una democrazia intesa come in Atene probabilmente c'erano più di 400.000 persone ma solo 50.000 persone avevano diritto civile ma anche politico sappiamo appunto probabilmente ad Atene c'erano 50.000 uomini maschi adulti circa poi c'erano appunto 20-30.000 meteci che erano appunto cittadini non cittadini abitanti all'interno di Atene o all'interno appunto della realtà attica che era cappeggiata da Atene e questi uomini avevano solo diritti civili non già politici erano infine i conti stranieri che erano riconosciuti per stare lì avevano appunto il diritto di stare all'interno di Atene e spesso erano commercianti poi c'erano le donne che erano le donne più i vecchi più i bambini che potevano essere circa 200.000 e poi c'erano gli schiavi che erano più di 200.000 circa quindi da questo punto di vista dobbiamo pensare che la realtà attenese era comunque ben popolata il presupposto però è che una netta minoranza poteva partecipare in modo compiuto a tutti i tipi di presupposti della vita politica quindi solo quei 50.000 cittadini maschi adulti ora nel momento in cui questo accadeva cos'è che accadeva? che i cittadini potevano tutti appunto alzare la mano o in certo qual modo votare per un potenziale appunto per una potenziale carica Atene fece anche determinate riforme sulla base appunto di un'evoluzione dal senso più dalla riforma di Solone censitario al senso più democratico ricordiamoci che spesso le cariche erano appunto votate intese come erano sorteggiate non erano appunto non avveniva l'elezione ma avveniva il sorteggio tra tutti i membri della cosiddetta ecclesia cioè tra tutti i cittadini e poi c'era anche il senso dell'elezione come per la carica dello strategico in realtà erano dieci tale per cui poi i cittadini si incontravano si presume appunto all'interno della Gorà e poi dibattevano e poi alzavano la mano e la maggioranza poi decretava in fin dei conti il senso di chi doveva diventare stratego ora il presupposto interessante perché all'interno di questa struttura capiamo bene che a differenza di Sparta c'era tuttavia ora davvero il senso del dibattito cioè la riforma di Clisten aveva fatto in modo che la Boulé ovvero sia il Consiglio dei Cinquecento costituito con la riforma di Clisten alla fine del stesso secolo a.C. riguardasse tutte le tribù ateniesi che erano appunto sparse tra i diversi demi dell'Attica i demi sono i quartieri demo al singolare demi al plurale quartiere e quartieri ora erano in totale Clisten le fece diventare dieci tribù la Boulé era costituita da cinquecento membri cinquanta per ogni tribù cinquanta per dieci fa cinquecento quindi il Consiglio dei Cinquecento o Boulé cosa doveva fare il Consiglio dei Cinquecento? a differenza della Gerusia il Consiglio dei Cinquecento sì che doveva riflettere su potenziali decreti determinate leggi determinate norme da proporre all'Ecclesia ovvero sia a tutti i cittadini però attenzione l'Ecclesia poteva riflettere su questi tipi di idee di norme di proposte ma poteva controbattere non già basandosi solo su un sì o un no come accadeva appunto alla pella spartana ma poteva proporre a sua volta nuove norme nuove leggi criticando le norme proposte o la proposta comunque sia proposta appunto fatta dalla Boulé o una modifica poteva proporre rispetto alla proposta fatta dalla Boulé o un inserimento di nuovi punti o di un nuovo punto che la Boulé non aveva preso in considerazione pertanto il senso democratico atenese non era soltanto un senso di alzata di mano o per votare i membri della Boulé inteso come scegliere in realtà i membri della Boulé c'era un senso di sorteggio quello era solo l'inizio cioè il senso del sorteggio era l'inizio perché poi quelli i Boulé i membri del Consiglio dei Cinquecento si erano sorteggiati democraticamente tra tutti i cittadini però poi nel momento in cui questi avevano diritto ad essere parte della Boulé dovevano proporre ma queste proposte erano possibilitate di essere messe in discussione per essere fondamentalmente criticate modificate o non prese in considerazione e rivalutate o assolutamente appunto non considerate per essere altre proposte considerate perché magari a un cittadino veniva in mente sulla base di una proposta della Boulé una nuova idea di riforma di legge o di riforma di decreto di riforma anche in certo qual modo si può pensare di stampo politico che poteva proporre sempre in quanto aveva il diritto politico ora e questo poi naturalmente anche il senso della democrazia diretta e la differenza in questo senso tra il senso spartano e fondamentalmente il senso atteniese un senso spartano che doveva sempre basarsi sul senso appunto del sì o no il senso invece della democrazia diretta era parliamone certo naturalmente c'è un senso di consuetudine di base in entrambe le realtà politiche cioè a Sparta esisteva una consuetudine si potrebbe dire del diritto intesa come nessuno può violare il costume di Sparta e bisogna restare attaccati a questo senso oligarchico spartiato aristocratico ad Attene c'era ovviamente anche lì un senso di consuetudine inteso come senso del dibattito democratico cioè se a Sparta c'era l'idea che nessuno poteva violare il costume e chi attentava al costume in questo senso attentava all'ergimo oligarchico era in potenza un criminale in realtà era un criminale e doveva essere punito ad Attene c'era lì attenzione che si potesse dibattere sulla stessa democrazia e si potessero innovare tramite decreti tramite leggi i sensi della democrazia a responsabilità però dei cittadini che lo applicavano tale per cui il cittadino doveva portare buoni argomenti buoni esempi buoni fatti buone connessioni in rapporto alle proposte della Boulé e poi se questi passavano e la cosa non funzionava doveva anche prendersi lui la responsabilità di tutto ciò inteso come anche responsabilità di fronte agli altri cittadini tale per cui da questo punto di vista ricordiamoci sempre che non è che perché un cittadino veniva votato o un cittadino faceva in modo che una legge passasse o proponeva una legge che poi passava che allora era esente da responsabilità c'era sempre il tema dello stracismo per esempio ad Atene tale per cui quei cittadini che per esempio ostentavano molto la loro ricchezza o partecipavano troppo attivamente alla vita politica ed erano molto ricchi e preoccupavano rispetto a determinate proposte che avevano fatto e che poi erano state rivalutate potevano sì comunque sia essere protagonisti di esilio perché la vita atenese in questo senso era specificatamente una vita di dibattito interno non è un caso che poi appunto nel quinto nel quarto secolo avanti cristo si parlerà appunto delle tragedie e delle commedie tale per cui si pensa lo stesso Aristoforo nel quinto secolo avanti cristo nel periodo della guerra del Peloponneso quando metterà in atto le sue commedie perché la vita democratica non era solo la vita dell'andare a votare non era solo la democrazia diretta intesa come il momento del voto o il momento del sorteggio o il momento del dibattito era probabilmente una vita costante intesa come riflessione continua all'interno del senso attenese quando Aristofane metteva in piedi le sue commedie lo faceva apposta cioè non andava quasi mai in relazione al sentito comune lui utilizzava il suo genio il suo intelletto la sua cultura la sua la sua la sua capacità per mettere in piedi i commedie che facessero riflettere e il riso che producevano era probabilmente quello per intrattenere le persone ma non già per intrattenerle per arrivare al fine di una mera di un mero intrattenimento bensì quello di utilizzare l'intrattenimento per poi fare arrivare la riflessione a monte l'intrattenimento era a valle si potrebbe dire cioè l'intrattenimento è ciò che concerne in fin dei conti il sentito di pancia però quello che voleva fare Aristofane era partire dall'intrattenimento in certo qual modo per arrivare poi al senso della riflessione personale se quella cosa ti attira e ti fa ridere magari poi a un certo punto ti farà anche riflettere perché le commedie di Aristofane non sono puro riso non sono puro intrattenimento sono qualcosa di più sono qualcosa che concerne la vita quotidiana tenese una vita fatta appunto di dibattito di critica e il senso anche di quel periodo storico che era poi la guerra del peloponneso ciao 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 Grazie a tutti.